Proseguono le indagini dei carabinieri su Ion Olteanu. Proseguono gli accertamenti sui motivi per cui quelle 30 settenne romeno, da pochi giorni ospite in casa della sorella, nella frazione Montelabatesi di Apsella, maneggiasse esplosivi e realizzasse ordigni rudimentali. Una bomba che attorno alle 13.15 di sabato è deflagrata senza controllo dalla mansarda del civico 40 di via per Apsella, lasciando sgomento un territorio frastornato dal boato e dal propagarsi della notizia. Un'esplosione che soprattutto ha ferito e mutilato Olteanu. Il 30 settenne da sabato è stato trasportato in egliambulanze in condizioni gravissime all'ospedale Torrette di Ancona, dove tuttora ricoverato e sottoposto a interventi chirurgici plurimi. L'esplosione ne ha tranciato entrambe le mani e ora rischia di far perdergli pure un occhio al cospetto dei gravi traumi al viso riportati all'interno di un quadro clinico che resta di prognisi riservata e che lascia in dubbio la possibilità del se e il quando Olteanu potrà essere interrogato dalle forze dell'ordine. Esiste una possibilità che il tipo di esplosivo andato fuori controllo fosse destinato a far saltare in area Bancomat ai fini di furto. Un tipo di crimine nel quale però Olteanu non risulta mai essere stato coinvolto al di là di qualche suo precedente con la giustizia legato a furti e possesso di armi. Per ora scarsi elementi sono emersi dalle testimonianze dei parenti ma intanto i carabinieri stanno setacciando il cellulare di Olteanu e hanno sequestrato due furgoni parcheggiati vicino al centro commerciale Le Matite di Montelabate.